ciao a tutti oggi prepareremo la zucca stufata il tempo di preparazione della ricetta di 40 minuti circa ingredienti sono zucca tagliata a pezzetti aglio olio evo rosmarino pinoli sale uva sultanina ammollata pepe vino bianco acqua dato vegetale bimbi e burro diametri alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio e facciamo insaporire per 4 minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'aglio dal boccale aggiungere la zucca il rosmarino il pepe il sale i pinoli e l'uvetta ed azionare il bimbi per 5 minuti 100 gradi antiorario velocità soft aggiungere il dado l'acqua l'acqua il vino bianco e cuocere per 15 minuti temperatura varoma velocità soft antiorario l'acqua aggiungere il burro e azionare il bimbi per un minuto 100 gradi antiorario velocità soft trasferire in un piatto da portata e servire zucca stufata grazie e alla prossima ricetta ciao